direttamente dagli uffici stampa salda press abbiamo questo bel mattonazzo di 416 pagine prezzo di copertina 40 euro velvet di edbro baker che ormai è pop e ciccia con salda press e disegni di steve hapting quando il direttore della più grande agenzia spionistica del mondo viene ucciso tutte le prove portano alla sua segretaria personale velvet templeton ha uno scuro segreto sepolto nel suo passato velvet è la donna più pericolosa del mondo e ora dovrà tornare in campo come super spia per vendicare la morte dell'uomo che amava tutti e 15 capitoli della storia racconti in questo bel omnibus in uscita il 19 aprile